signori buongiorno a tutti siamo non siamo in un bosco siamo nel paradiso dei finferli dei galletti cantarellus ibarius guardate 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 ce ne sono dappertutto vedete qui in mezzo al verde guardate attenzione guardate non allontalate lo sguardo e guardate attenzione ecco la mia borsa guardate che spettacolo ecco il paradiso dei finferli attenzione attenzione vedete come mi muovo saltano fuori finferli adesso vado di qua attenzione qui sotto ne avevo visto degli altri eccoli qua guardate mamma mia incredibile erano anni che non vedevo tanti finferli così a parte giù l'appennino l'anno scorso c'è stato proprio una fioritura ecco faccio una zoom mattina ce n'è dappertutto sono uno spettacolo siamo nei boschi austriaci nel lungau san michael guardate che roba avete visto ora chiudo perché li devo raccogliere qua ci vorrà una bella mezz'oretta saluti a tutti alla prossima ciao